ciao e benvenuti l'appuntamento con il flower power la voyager cup del venerdì allora oggi parliamo di turismo come al solito e nell'appuntamento di oggi parleremo specificatamente delle vacanze degli italiani dove vanno gli italiani secondo un'indagine di future form tourism è stato fatto un sondaggio da parte dell'istituto ipsos che ci racconta dove vogliono andare gli italiani e infine parleremo e daremo un po di chiarezza sperando per quanto riguarda la marea di informazioni che arrivano riguardanti i paesi della comunità europea e il famoso green pass entri eci sì o no no sì e così via allora almeno 7 italiani su 10 vogliono andare in vacanza tra qui e settembre e nonostante ci siano delle delle incertezze che riguardano appunto il green pass che riguardano la variante delta e che riguardano sempre queste regole che ogni giorno cambiano la regola di oggi è valida oggi anzi già passato anzi già passato per dirvi che le notizie bisogna sempre bisogna sempre starci sotto ma bisogna anche pesarle tornando alla vacanza degli italiani italiani sono positivi pensate un po che il 70 per cento del valore delle vacanze prenotate è pari a livello 2018 2019 la durata delle vacanze degli italiani secondo questa indagine è innanzitutto dei tre giorni un long weekend weekend lungo poi subito dopo la vacanza superiore alle 13 notti e invece c'è un po di calo per la vacanza tra le 7 le 14 giorni intorno ai 10 giorni si fa un po più fatica per quello ma in realtà è più faticoso perché gli operatori preferiscono vendere a cluster una settimana o due settimane giorni e un po in agosto è difficile fare 10 giorni perché non tutti agli appartamenti gli alberghi bisogna stare su un certo tipo di livello di hotel si fa un po fatica ad ottenere 10 giorni ma quali sono le destinazioni che preferiscono gli italiani allora l'ottanta per cento del campione preferisce naturalmente andare al mare siamo italiani siamo mediterranei vogliamo il mare poi segue la montagna la campagna i laghi e un certo una certa sofferenza ce le hanno le città d'arte che però probabilmente riprenderanno nel periodo autunnale sicuramente il caldo non aiuta la città d'arte poi la top delle cinque regioni migliori richieste dagli italiani trova al primo posto la toscana al secondo posto abbiamo la bellissima sicilia poi la puglia l'emilia romagna e il trentino alto adige che la vera scoperta una buona dose di italiani vuole andare in montagna ma come ci vanno in montagna ci vanno naturalmente in auto però c'è anche gli spostamenti in aereo sono un po tornati in auge insomma gli aeromobili sono un po sono un po più pieni rispetto ad un anno fa e il il trend per quanto riguarda il futuro è positivo perché gli italiani pensano che comunque andando avanti con la stagionalità si potrà ricominciare a viaggiare e questo lo speriamo anche noi ce lo auguriamo e torniamo a parlare invece di green pass che è questo strumento che viene dato dopo i 14 giorni viene dato subito dopo la vaccinazione la seconda dose o la prima se un johnson ma è valido dal quattordicesimo giorno in determinati paesi quindi bisogna sempre attendere il quattordicesimo giorno perché il green pass diciamo sia in rodaggio ma perché perché i vostri anticorpi sono diciamo considerati completamente attivi e parliamo di paesi dove andare vi ricordo che quando raggiungete un paese che sia spagna francia grecia austria e così via o malta ci sono da compilare dei form molto importanti a cui che trovate online ma potete chiedere al vostro la gente di fiducia dove trovare questi form sicuramente vi dirà guardate che vi do l'indirizzo e questo è il form da compilare e com'è la la vacanza in spagna allora sentiamo molte notizie che ci dicono ma è tutto chiuso ma no attenzione non c'è chiuso niente allora è che sia chiaro questa cosa allora premesso che il green pass è un aiuto per poter andare in vacanza si può andare anche col tampone ma il green pass apre molte più porte per esempio in francia col green pass si può andare al ristorante si può prendere un treno si può entrare dentro un museo il green pass contiene anche l'ultimo tampone ricordatevi questo se dovete andare certo in un ristorante fare un tampone ogni sera magari diventa un pochettino fastidiosa questa cosa però vabbè dopo dopo il primo però praticamente nel green pass c'è scritto quando avete fatto il tampone e vaido massimo 72 ore quindi insomma c'è un po' una spesa non indifferente quindi il green pass vi aiuta a entrare nei locali in francia appunto è richiesto qua si può entrare in francia tranquillamente però per andare al ristorante ormai viene richiesto il green pass in spagna non c'è problema ad oggi per quello c'è da dire che nella catalogna e a barcellona e a madrid ci sono delle limitazioni per la chiusura dei locali per esempio chiudono i locali in spagna intorno alle ore 12 e 30 e c'è da dire che una notizia dell'ultimo minuto è che la la catalogna e quindi barcellona ha deciso di chiudere dall'ora 1 alle ore 6 e 30 e di obbligare la gente andare a casa dall'ora 1 alle ore 6 e 30 del mattino quindi finito di fare le proprie cose all'una di notte si va a dormire per così dire non si fa la notte fuori e lo stesso riguarda il portogallo da dalle 23 alle 5 di mattina a lisbona a porto e in 60 comuni bisogna andare a casa ma durante il giorno si può circolare liberamente malta accetta sia i turisti vaccinati col green pass che quelli non vaccinati però attenzione chi non è vaccinato deve farci 14 giorni quarantena quindi non so quanto ne valga la pena l'austria ha richiede come al solito il green pass per entrare oppure il tampone e il praticamente il green pass vi serve anche qui per entrare nei ristoranti nei musei e così via infine la slovenia ha dato l'ok per poter accedere al paese senza quarantena se si ha il green pass oppure ci vuole naturalmente anche qua il tampone 72 ore prima o 48 se antigienico dell'entrata nel paese quindi ci sono un po di limitazioni che riguardano l'europa ma detto questo secondo me la il volume il polverone che si sta alzando in questo momento stranamente appena sono finiti i campionati europei di calcio è un po troppo bisogna essere informati questo lo diciamo sempre prima di andare in un determinato luogo informatevi ma chiedete al vostro agente di fiducia che saprà aiutarvi nella risoluzione delle problematiche tutti i moduli da fare online sono fattibili sono abbastanza magari alla prima volta sono un po complicati nella vista ma poi sono facili da fare e bisogna solo ricordarsi di farli è un po così sarà un altro anno forse un altro prossimo anno fin quando non sparirà questa cosa da fare così bene questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la voyager cap vi ricordo che se avete domande potete farle qui sotto oppure attraverso i nostri canali social facebook twitter e instagram vi ricordo che le novità le trovate per quanto riguarda le notizie su voyagertraveler.com e invece per quanto riguarda le offerte su voyager125.it io vi ringrazio flower power e ci vediamo naturalmente a lunedì ciao e buon fine settimana ciao ciao